benvenuti io sono il cencio e questo è un nuovo episodio di telltale the walking dead nell'ultima puntata c'è stato il massacro nella fattoria ma veramente il massacro sono morti più personaggi nello scorso episodio che in tutta la serie fino ad ora e adesso non è ancora finita perché siamo di fronte a un'altra situazione che non mi piace per niente è strana questa situazione la macchina qui con l'allarme che va la portiera del passeggero aperta tutti i fari accesi e tutto acceso non c'è nessuno e non mi posso fidare di kenny non ci si può fidare di quell'idiota non ci si può fidare di lui però non ho altre chance diggis oh crap oh crap baby you gotta see this is a shitload of food and supplies back here this food could save all of us not all of us wow look we don't know if these people are dead if they come back then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives this stuff isn't ours dad whose car is it don't worry about that duck it's ours now it's abandoned ducky don't worry what if it's not what if it's not abandoned what if it is someone's queste scelte uccidono queste scelte uccido io vi giuro io questa cosa ci penso sempre lo sapete chi segue il canale lo sa che a me il survival piace molto il post apocalittico piace ancora di più ok proprio a me piace tanto il post apocalittico perché perché quello che mi appassiona tra virgolette se così vogliamo dire ma non è una passione è un termine sbagliato lo uso solo perché non trovo altro quello che mi attira sotto un certo punto di vista anche un po' masochistico se vogliamo è il fantasticare su cosa cosa farei cosa succederebbe in una situazione come dicevo nell'episodio scorso senza società senza leggi senza valori che cosa fai che decisioni prenderesti perché qui è facile ok è facile anche qui chi mi segue da tempo mi conosce io non ruberei mai cioè a meno che non ne sia veramente costretto proprio non ruberei cioè queste cazzate qui non le farei mai nella vita mai mai rubare queste bassezze non ma non perché ho paura di finire in galera proprio una cosa mia personale proprio un valore che ho dentro io è il modo è quello che è egoistico non lo faccio perché sono penso di far del bene è quello che mi serve per dormire la notte per star bene con me stesso ho bisogno di sapere che non ho rovinato la vita ad un'altra persona capite cioè il sapere di aver rovinato la vita ad un'altra persona mi martorierebbe perché sotto sotto certo i miei difetti ma non sono una cattiva persona non voglio il male per gli altri so quello che vuol dire soffrire e non vorrei mai che qualcun altro soffrisse quindi non ruberei mai a prescindere non lo farei ma qui non stiamo parlando di me ok non stiamo parlando solo di me anzi qui stiamo parlando di tutti non di me stiamo parlando di me stiamo parlando di clementine stiamo parlando di duck stiamo parlando di questo ragazzo che non ricordo il nome del campus stiamo parlando di carly stiamo parlando di lilly stiamo parlando della famiglia di stronzi di là capite? ma soprattutto ci sono due bambini e uno potrebbe dire anche loro potrebbero avere dei bambini è vero, è vero, è verissimo anche loro potrebbero avere dei bambini e che si fa ora? che si fa? moriamo noi o muoiono loro? io che cosa ho detto nello scorso episodio riguardo a Clementine? che lei deve imparare che in una situazione del genere purtroppo la situazione deraglia in o io o te e quando ti trovi a fare una scelta del genere o io o te viene da sé che la scelta è te ok? nel senso che chi deve lasciare le penne sei te non io ci siamo perché sennò perderebbe tutto di senso perché? perché sarebbe bellissimo se tutti mantenessero i valori ma in realtà non possono mantenerli i valori e per valori intendo capite la giustizia l'onestà la sincerità tutte queste queste belle parole no? di cui con cui spesso ci riempiamo la bocca non possono mantenere e con il plurale intendo le persone l'umanità in una condizione del genere non possono mantenere questi valori perché questi valori in realtà non ce li avevano neanche prima noi pensiamo che oggi sia pieno di persone oneste di persone sincere e di persone altruiste non è vero lo fanno semplicemente perché gli fa comodo perché fare altrimenti è svantaggioso nella società in cui siamo rubare oggi non lo fai molte persone non lo fanno non perché gli importa qualcosa del danno che fanno ad un'altra persona ma perché sanno che se vengono beccati si fanno la galera o comunque hanno beghe grosse e quindi ma chi me lo fa fare soprattutto per rubare una bazzecola quante volte avrete sentito dire ma sì ma figurate se mi metto nei casini per una cazzata del genere ma per una cosa ben diversa ma magari il negozio te lo svuoto capito? queste qui è pieno è pieno non sto dicendo che tutti ragionano così è attenzione ci sono moltissime persone grazie a Dio che questi valori li hanno davvero e anche qui potremmo fare un'analisi psicologica approfondita e salterebbero fuori cose un poco piacevoli cioè del tipo che l'altruismo tutte queste belle cose spesso e volentieri sono semplicemente cibo per l'egoismo nutrono l'egoismo delle persone cioè chi fa del bene spesso non lo fa per fare del bene agli altri ma lo fa perché facendo del bene agli altri si fa del bene da solo ok? questo è un discorso molto complesso e profondo però che è frutto di molteplici ricerche psicologiche sul come funziona l'altruismo su come il cervello umano genera l'altruismo da dove nasce l'altruismo nel cervello umano quando l'altruismo scompare in una persona altruista ok? ci sono degli studi ci sono un sacco di cose molto interessanti riguardo a questo argomento che è molto 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 più complesso di quello che si pensa non è così semplice quello che però a noi ci importa senza infilarci in discorsi da cui non ne caveremo mai più le gambe perché questa è una roba veramente enorme ragazzi quello che a noi ci interessa è quello che vi dicevo prima in una situazione del genere tutte quelle persone che facevano finta di avere questi valori perché gli conveniva dal momento che non gli conviene più fingere smettono di fingere se ne strasbattono e fanno quello che avrebbero sempre voluto fare perché adesso è diventata quella la cosa più vantaggiosa da fare queste persone qui purtroppo sono la maggioranza nel mondo sono la maggioranza quelli che se ne fregano del prossimo perché cattivo mondo ladro boia no è una questione di sopravvivenza chi se ne sbatte sopravvive ha più probabilità di sopravvivere avendo più probabilità di sopravvivere ha più probabilità di riprodursi avendo più probabilità di riprodursi ha molte più probabilità di passare i propri geni ad una prole successiva ad una generazione successiva e soprattutto di educare quella generazione successiva il fatto che nel mondo la maggioranza delle persone siano egoiste crudeli disoneste menefreghiste non è perché satana ha preso il sopravvento nel mondo e regna il male no è perché quelle persone sopravvivono meglio degli altri i buoni spesso e volentieri perdono perché il buono purtroppo tende a tracciare dei confini ben precisi che non vuole in nessun modo oltrepassare altrimenti tutto il suo castello di carta dell'essere buono crolla e ci sarebbe proprio quello che in inglese viene chiamato l'ego death ovvero la morte dell'ego la morte del sé in cui tu non ti riconosci più in cui tu non capisci più chi sei quello che hai fatto è un qualcosa che non avresti voluto fare non ti riconosci in quelle azioni che hai fatto di conseguenza non ti riconosci più in te stesso e ti crolla veramente succede un crack mentale fortissimo e ti crolla tutto e cade il tuo carattere la tua personalità il tuo io non sei più non sei più ok questo viene queste parole non sei più questa cosa viene chiamata ego death la morte dell'ego e i buoni di questa cosa ne soffrono tantissimo perché il buono per essere buono deve imporsi dei limiti deve mettere dei divieti dei paletti quei paletti non vanno superati se si superano adesso non sono più buono e chi sono io sono cattivo no non sono cattivo non sono buono chi sono io cosa sono io cioè il disagio il disturbo psicologico che si genera è enorme è enorme è incommensurabile questa cosa è uno svantaggio gigantesco per i buoni che io sto usando la parola buoni e cattivi per generalizzare e per intenderci meglio ok è uno svantaggio enorme che hanno i buoni che i cattivi non hanno i cattivi non hanno questo svantaggio il poter fare quello che vuoi implica che tu puoi fare quello che vuoi non va a cambiare ciò che tu sei capite non si mettono dei paletti questo fa sì questo e mille altri motivi che adesso non approfondiremo ma questo e mille altri motivi fanno sì che spesso e volentieri è il tra virgolette cattivo ad avere la meglio è il tra virgolette il cattivo a sopravvivere a riprodursi ad educare ok ecco il motivo per cui ci sono sempre più cattivi in una situazione come questa in cui tutti si è liberi di fare quello che si vuole in cui solo la tua moralità interiore solo il tuo ego solo il tuo io interiore è lì a fermarti vi rendete conto di questa roba non c'è polizia non ci sono i federali non c'è niente non c'è nessuno che ti può fermare solo tu ti puoi fermare solo il tuo ego ti ferma in una situazione del genere la maggioranza delle persone diventa avida diventa egoista diventa menefreghista diventa aggressiva diventa pericolosa e lo fa per sopravvivere e questo gli garantisce maggiori probabilità di sopravvivenza rispetto a noi ora il punto qual è non c'è bisogno di fare tanti discorsi morali qua ok ognuno di noi me e voi che state guardando questo video lo sapete chi siete lo sapete di quale categoria fate parte e non mi interessa neanche sapere di quale categoria fate parte in una situazione del genere ognuno inizierebbe a comportarsi in una determinata maniera e ci sarebbero gli sfigati come me perché io farei parte degli sfigati che non avrebbero la forza di fare determinate cose e lo so che quelle cose mi porterebbero prima o poi a lasciarci le penne ci morirò per una cosa del genere prima o poi ma come vi dicevo più forte di me non lo faccio perché è quello che mi permette di dormire la notte non fare queste cose non distruggermi ok è quello che mi permette di dormire la notte ma io sono in svantaggio io sono un coglione a pensare così non sono quello furbo non sono quello che sopravvive non sono quello che ha maggiori probabilità di andare avanti sono quello che ci lascia le penne è così ne sono pienamente cosciente pienamente io fossi lì non so se prenderei questa roba fossi lì da solo sapete che farei mi nasconderei in un cespuglio lì vicino e aspetterei e aspetterei e aspetterei e aspetterei nel mentre che aspetto mi apro una lattina o due dei tizi giusto per mantenermi in salute e in forma se non torna nessuno entro tempi brevi io prendo la macchina e me ne vado ma aspetto se torna qualcuno io non ce la non ce la farei non ce la farei e lo so ora magari uno dice beh ora dici così perché non c'hai lo stomaco che ti brontola dalla fame non ti tremano le gambe dalla fame è vero è verissimo chi dice questo ha ragione ha ragione io dico così adesso perché sono tranquillo nella mia casetta ho pranzato non ho fame sono riposato sto bene e non ho paura di crepare di fame nel giro di tre giorni in una situazione del genere chissà cosa mi farebbe il mio cervello io vi dico adesso per come la penso io per la persona che sono io adesso non lo farei non lo farei perché mi sentirei così tanto in colpa che non riuscirei più a dormire la notte che non riuscirei più a guardarmi allo specchio adesso ma lì in quella situazione lì potrebbe cambiare potrei cambiare potrebbe esserci un'evoluzione nel mio modo di pensare nel mio modo di essere nella mia personalità e potrei diventare anch'io uno di quelle testa di cazzo che non ci penserebbe un secondo a salire in quella macchina a mettere in moto e andarsene e voilà e portarsi via tutta questa roba potrei essere anche io uno di quelli e non lo so non posso saperlo non posso saperlo fino a che non mi trovo in quella situazione non posso saperlo e io queste cose ci penso spesso come vedete da tutti i ragionamenti che vi ho fatto è un qualcosa che mi affascina tremendamente che cosa siamo perché siamo in una determinata maniera la psicologia in generale sotto tutti i suoi campi mi piace e questo è un campo estremamente interessante perché il comportamento umano senza freni senza lucchetti è un qualcosa di estremamente interessante terribile spaventoso indubbiamente ma interessante e ci ho pensato molto a questa roba qua ho cercato proprio anche la sera per esempio quando siete nel letto che fantasticate che non riuscite a dormire ad occhi chiusi il cervello inizia a vagare iniziate a pensare a pensare e vi fate i film vi immaginate di trovarvi in determinate situazioni in determinate cose non avete idea quante volte mi sono immaginato di trovarmi in una situazione del genere per il divertimento di domandarmi ma io cosa farei ma io che cosa farei e quello che volevo dirvi all'inizio di tutto questo enorme discorsone è che quello che mi farebbe più paura in un apocalisse zombie non sono gli zombie non sono i briganti ma è il trovarmi in situazioni come questa è il dover prendere decisioni come questa che mi terrorizzerebbero perché perché mi dovrei trovare tra fare schifo e fare ancora più schifo non c'è salvezza da una decisione del genere guardate che decisione prendiamo la roba e insegniamo a una bambina che è giusto rubare agli altri che è giusto privare qualcun altro dei suoi beni per sopravvivere te insegniamo una cosa del genere oppure no non la prendiamo questa roba e rischiamo di vedere morire Clementine di media vi rendete conto vi rendete conto che decisione che è questa qualunque decisione prendo è una manciata di merda che mi infilo in bocca qualunque decisione prendo non c'è una decisione che mi fa star bene non c'è non c'è perché qualunque scelta faccio è veramente una manciata di merda che sono costretto ad ingoiare è terribile questa cosa ed è una delle cose più spaventose che un essere umano si può trovare ad affrontare secondo me almeno per quanto mi riguarda è terribile per concludere perché ho paura di annoiarvi altrimenti per concludere con la mentalità che ho adesso con il mio io attuale io farei così io mi metterei lì nascosto aspetterei per vedere se torna qualcuno se non torna nessuno la roba me la piglio io altrimenti gliela lascio fossi da solo non sono da solo a me di tutti questi qua Kenny Danny Bambi Lenny Lilli Billy Bulli Balli non me ne può fregare di meno lo dico sinceramente non me ne può fregare di meno io sono una persona sincera proprio non me ne può fregare di meno potrebbero schiantare da un momento all'altro non me ne fregherebbe niente io qui c'ho una persona a cui tengo ed è Clementine e è lei che penso perché è lei questo purtroppo vedete questa è una cosa bastarda perché questo è istinto paterno che ti viene fuori nei momenti più infidi e infami e vedrete anche voi ragazzi che ormai magari siete giovani non ve ne rendete conto ma quando comincerete ad avere una certa età quando cominciate a superare i 20-25 anni salta fuori l'istinto come vedete un bambino una bambina si attivano dei meccanismi nel cervello che ragionate per loro capite per proteggere loro per salvaguardare loro per loro non è più voi non siete più voi sono loro è una cosa particolare e questo funziona cioè è questo che ovviamente manda avanti gli esseri umani è ovvio che funziona ma dico questa cosa a me si attiva anche in questo caso perché il gioco vuole che si attivi anche in questo caso vuole che ti si accenda quel dannato istinto paterno tu prenda decisioni in base a lei e allora io mi metto di nuovo io nei panni di lì io mi metto dentro lì con Clementine io che cosa farei questa roba la prenderei o la lascerei lì io la prenderei come ragazzi per lei per non doverla vedere morire di fame per non dover vedere quelle guanciotte scavarsi e trasformarsi nell'ombra nelle sagome dei denti che ci stanno sotto per non vederla debole per non vederla accasciata per terra per non vederla prendergli le peggio malattie quello che dovrei sopportare nel vederla morire di fame sarebbe infinitamente peggio degli incubi che mi tormenterebbero a sapere che ho privato qualcun altro del suo cibo io per lei questo cibo lo prendo e di nuovo vedete la natura egoista ed egoistica dell'essere umano vedete perché l'ho detto sempre per me sempre per non dover affrontare il dolore di vedere una persona a cui tengo in parte morire ma è sempre per me queste sono cose che vale la pena rifletterci vale la pena rifletterci comunque abbiamo perso 20 minuti dietro a sta roba ragazzi 20 minuti ma oh cioè voglio dire The Walking Dead è questo questo The Walking Dead è questo se non ci godiamo queste scelte qui se non ci cervelliamo in questi momenti cazzo stiamo a fare potete benissimo prendere e andare a guardare la serie tv avrebbe la stessa profondità il bello di questa roba invece è questa che siamo noi a dover prendere queste decisioni siamo noi a dover riflettere sulle decisioni che prendiamo perché è facile fare così e cliccare è facile così su due secondi prendo questa e vado se non ti metti a riflettere sulle conseguenze di quello che fai e perché lo fai perché ho preso questa decisione perché mi viene da fare questa cosa invece che l'altra è wow è proprio wow io per Clementine le prendo magari non prendiamo tutto basta magari ecco io non avrei preso tutto per esempio cioè come al solito una via di mezzo perché devi prendere tutto io gli avrei lasciato un po' di roba c'è già con quello che abbiamo Grazie a tutti. Leigh, tu dovrai vedere questo. Oh, c***o. Jake, Bart, Linda, and all y'all f***ing sickos from the save lots. They call y'all bandits, but you're f***ing rich as much. Oh, darling, baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No, Clementine. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. Y'all thinking you're safe? Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you've got to be afraid of. The people I used to call friends. The people who... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Ed eccoci qua, consueto taglione brutale che vi avevo fatto in post-produzione con gli spoiler, perché sono anche degli spoiler mica male, eh, del prossimo capitolo che andremo a vedere nella prossima puntata. Noi, oramai, purtroppo, questo episodio è stato molto chiacchierone. Ci siamo fatti mille seghe mentali e mille ragionamenti su quei discorsi lì. Io, ragazzi, veramente, lo ripeto di nuovo, spero che queste cose vi interessino e che vi piacciano, perché altrimenti, ripeto, uno si può guardare direttamente la serie TV, no? È questo il bello. Certo, mi dispiace che è un episodio intero praticamente quasi solo di chiacchiera, però è venuto così. Che ci volete fare? E ora si chiacchiera ancora, perché adesso si parla brevemente delle scelte che io e gli altri giocatori di Steam, perché io il gioco ce l'ho su Steam, non so se si applica anche ad altre piattaforme questa roba qui, cioè se usa i server loro o no. Non credo, perché altrimenti non funzionerebbe più. Credo che queste siano le statistiche solo dei giocatori Steam, ma comunque vediamo io e gli altri giocatori che scelte abbiamo fatto. Salvatore, hai mozzato la gamba di David? Tu e l'84% dei giocatori gli ha mozzato la gamba. Quindi la stragrande maggioranza ha tagliato con l'accetta la gamba di David, quello il professore era, no? Il professore del campus che all'inizio proprio dell'episodio rimane intrappolato nella tagliola. E anche lì mi viene da dire e che vuoi fare? Arrivano gli zombie, non c'era la leva di rilascio nella tagliola perché era stata manomessa. E adesso sappiamo chi l'ha messa quella tagliola. Non erano i banditi, sono stati quelli della fattoria. Avete visto che avevano le tagliole tutte messe lì senza leva di rilascio. Bastardi maledetti. E quindi non c'era molto da fare lì. Cioè nel senso l'altra scelta non aveva molto senso dal punto di vista ludico. Io non riesco a capire perché quel 16% di persone l'hanno fatto. Credo che l'abbiano fatto giusto per vedere che succede. Il filmato che cambia e cose così. Non credo che l'abbiano fatto perché nella realtà avrebbero fatto quello. Perché qui siamo in un videogioco. Non ti fai tanti problemi a tagliare la gamba a qualcuno con un'accetta. Voglio dire giochiamo tutti i giorni a videogiochi violenti in cui facciamo del male a persone che non esistono. È un videogioco. Ne siamo pienamente coscienti che non è la realtà. Nella realtà sarebbe tutt'altra storia ragazzi. Tutt'altra storia. Io qui non ci ho pensato un attimo a prendere in mano quell'ascia da pompiere e tagliargli la gamba. Ma nella realtà io non lo so mica se ci sarei riuscito. Perché un conto è un colpo e via a parte la gamba. Non ci si pensa più. Non hai neanche il tempo di capire quello che stai facendo e scappi. Un conto è prenderla ripetutamente ad accettate e sentire nelle tue mani la consistenza della sua carne e dei suoi muscoli e delle ossa che si spaccano che si scheggiano dei legamenti che tengano il pezzo spaccato ancora attaccati la parte di sotto ragazzi è una cosa terribile terribile io non so mica se ce l'avrei fatta nella realtà anche qui dico non lo so perché finché non mi trovo in quella situazione con l'adrenalina la paura il panico gli zombie che arrivano finché non sei in quella situazione non puoi dire con certezza quello che avresti fatto o no non si può puoi fare delle come dire forse avrei fatto quello però non lo so io non lo so se ci sarei riuscito non lo so perché non lo so veramente è quello che vorrei fare per cercare di salvargli la vita ma non lo so mica se ci riuscirei alla seconda accettata c'è il caso che vomito o svengo non lo so come va a finire detto questo quindi la realtà secondo me questo 84% che ha mozzato la gamba sarebbe molto minore secondo me saremmo sotto il 50% che sarebbe riuscito a tagliargli la gamba ben sotto il 50% ma ben sotto interrogatorio hai sparato a Jolin ah la tizia matta nel campo tu e l'87% dei giocatori l'hai ascoltata prima che Danny le sparasse questa è una cosa particolare perché è una nota positiva che la gente abbia ascoltato perché si vede che lei in realtà non è è fuori di testa è quello è vero però si vede che lei in realtà non vuole farti del male o comunque non vorrebbe farti del male quindi a sparare siamo sempre in tempo come dicevo anche con la storia del mattone di Larry ad ammazzare qualcuno siamo sempre in tempo uno aspetta fino a che non è davvero necessario farlo è vero che più tempo aspetti con una psicopatica con un fucile in mano psicopatica no però con una psicolabile con un fucile in mano mi sembra avesse un fucile una balestra aveva la balestra comunque con un'arma in mano ogni secondo che passa è un secondo in più in cui aumentano le probabilità di ritrovarsi con una freccia in mezzo agli occhi è verissimo quindi anche lì nella realtà non so come sarebbe andata però nel videogioco cioè io ti ascolto fino alla fine si vede che non mi volevi far del male che non avresti voluto almeno ecco quindi capisco quell'87% qua pragmatismo hai aiutato a uccidere Larry tu e il 68% dei giocatori hai cercato di salvarlo di nuovo perché perché sciai un attimo di tempo siamo in una situazione controllata come vi dicevo non c'è bisogno di impazzire spappolargli la testa prima prima ancora di subito proprio in altra capisco perché l'ha fatto Kenny ma tutti con la Y non finiscono sti nomi Lily Larry Kenny Danny Andy tutti così si chiamano capisco perché l'ha fatto Kenny e aveva ragione ritrovarsi chiusi lì dentro con uno zombie non è una bella cosa soprattutto con uno zombie con quella mole corporea lì sono pienamente d'accordo ma dato che è sdraiato per terra e abbiamo tempo siamo tre adulti con un'arma in mano perché lui aveva un cazzo di mattone di sale bello peso siamo tre adulti con un'arma in mano non c'hai fretta come si alza anche se uno dice beh non è più sdraiato per terra magari si alza di scatto proprio non è più sdraiato per terra comunque vada se glielo bati nella nuca gliela sfondi cioè avete visto in che facilità gli ha spappolato la testa con la roba il cranio di un essere umano non è fragile è bello bello duro è più duro di quello che si pensa quindi vuol dire che qualcosa era peso se glielo batteva nella nuca da dietro beh gliela spaccava la nuca che comunque l'avremmo ucciso senza problemi in tre secondo me in tre adulti ce l'avremmo fatto già guarda già se eravamo solo io e Kenny per esempio non lo so comunque capite senza una mano in più non lo so avrei avuto paura perché è bello grosso quell'uomo era bello grosso quanto dicevano 140 chili tipo una roba del genere sembra un po' troppo 140 chili però era bello grosso lì avrei avuto paura ma in tre cioè la figlia Lily la figlia di Larry non è una una sprovveduta anche se fa la meccanica ma è una meccanica dell'esercito presumo che abbia fatto addestramento militare anche se non avrà la super forza però un minimo si saprà addestreggiare un minimo capite cioè siamo tre adulti che sanno quello che fanno un minimo e quindi secondo me non era il caso di andare così precipitosi a spappolargli la testa prima del tempo secondo me si poteva tranquillamente provare a fare un massaggio cardiaco si poteva cercare a fare magari non non la respirazione bocca in bocca quella no però si poteva tentare un massaggio cardiaco e se non andava a quel punto ok gli si spappola la testa sono il primo a spappolargli la testa a quel punto ma non come ha fatto lui sempre con quel suo modo di fare così tutto di fretta tutto da fifone impauritissimo non così non così è quello che non andava bene vendetta tu e l'82% dei giocatori non ha ucciso entrambi i fratelli qui sono stato un po' in dubbio sono stato veramente un po' in dubbio io vi dico la verità io come al solito sono sincero credo che la sincerità sia uno dei valori importanti credo che se mi fossi trovato lì al posto di lì e non ci fosse stata dietro di me Clementine io penso che quello là dai cazzotti che gli davo in faccia gli facevo rientrare veramente la testa all'incontrario nella nuca si trovava la faccia la faccia piegata dentro aveva veramente l'avrei ammazzato di pugni dopo una situazione del genere anche solo per lo stress la paura l'adrenalina che hai in corpo in quel momento e chi cazzo mi ferma più dai pugni che ti do veramente finché le nocche dal naso non passano al terriccio io non me fermo cioè non me fermo ma lì è una situazione diversa lì c'è una bambina che ti sta guardando capi? sempre il solito discorso di prima non sei più solo te io lì mi sono fermato per lei semplicemente per lei perché perché il primo fratello quello filzato col forcone era necessario ucciderlo era necessario perché quello è uno psicolabile veramente di prima categoria e estremamente pericoloso estremamente pericoloso lasciarlo lì vivo mentre ancora c'è la madre l'altro fratello armati a zonzo è il verso proprio migliore per prendersi una pallottola nella schiena o nella nuca quando non lo vedi da dietro pum addio te quello non potevamo lasciarlo vivo era proprio eravamo costretti era per la nostra sopravvivenza se lo lasciavo vivo lì molto probabilmente mi avrebbe ammazzato dopo nella realtà spesso le cose vanno a finire così quindi lì eravamo costretti lui andava ucciso per forza Clementine che guarda o Clementine che non guarda quello andava ammazzato e Clementine deve capire perché quello lì andava ammazzato per forza perché se no lui ammazzava noi non c'erano altri sé ma l'ultimo l'ultimo fratello che non mi ricordo se era Andy o Danny sempre per rimanere con i nomi con la Y lui non era più una minaccia l'avevo sfatasciato era spappolato una persona acconciata in quella maniera non si regge neanche in piedi non ce la fai neanche ad alzarti non è una minaccia per di più c'era tutto il gruppo lì che avrebbe potuto fare era disarmato il fratello ormai era morto la madre ormai era morta cioè la minaccia lì era cessata non c'era più una minaccia ripeto fossi stato io lì da solo con la rabbia la paura lo stress l'adrenalina del momento probabilmente non mi sarei fermato fossi stato lì da solo ma dato che c'era lì Clementine no basta cioè è inutile non si uccide per divertimento questa è una cosa che lei è bene che impari non per divertimento però insomma alla leggera non lo si fa non lo si deve fare e questa è una cosa era un esempio capite da dare e uno dice predichi bene e razzoli male perché hai appena detto che tu l'avresti fatto certo indubbiamente ma l'insegnamento che Clementine doveva ricevere in quel momento è che non lo si deve fare capite cioè già gli verrà istintivo di farlo quando lei si ritroverà da grande se sopravvive sta povera bambina con tutti i traumi che ha avuto e vabbè a parte quelli ma com'è diventato il mondo adesso anche lei si ritroverà in quelle situazioni lì prima o poi non è se succederà è quando succederà perché succederà per forza in un mondo del genere anche lei si troverà a dover avere il collo di una persona tra le mani e decidere se spingere coi pollici o no anche lei prima o poi ci si troverà se io già parto con l'insegnamento che lei può uccidere così come se niente fosse che è una cosa leggera da fare mamma mia e chi la tiene più questa poi aiuto cioè capite bisogna cercare di arginarla la cosa poi capisco che nella furia del momento è un altro discorso però uno deve cercare di arginarla questo era il mio intento questo è il motivo per cui non ho ucciso il secondo il secondo fratello non ce n'era bisogno poi lascia fare che sono arrivati i zombie ci hanno pensato loro meglio così così è un pericolo in meno in giro per il mondo però l'ultima scelta invece sopravvivenza hai rubato il cibo dall'auto questo è interessante perché tu e il 55% dei giocatori ha preso delle provviste come potete vedere questa secondo me è la scelta più interessante meno scontata di tutto il secondo capitolo e lo possiamo vedere anche dalla percentuale il 55% siamo quasi ad un 50 e 50 perché 55 e 45 e ripeto e qui siamo in un videogioco le cose cambiano molto nella realtà queste percentuali secondo me sarebbero molto diverse qua non sarebbe il 55% ha preso le provviste ma sarebbe anche l'80 85% ha preso le provviste io vi ripeto qui non c'è molto da spiegare ci abbiamo passato tutto l'episodio a parlare di questa cosa credo che sia piuttosto chiara ne avrete le scatole piene di sta storia qui puntualizzo solo che è una scelta questa che non mi ha fatto piacere per niente veramente non mi ha fatto piacere per niente e come vi dicevo qualunque scelta facevo era una manciata di merda da ingoiare proprio terribile ogni scelta era peggio dell'altra proprio sbagliato e sbagliato una cosa terribile questa scelta non lo so quello che ho fatto la scelta che ho preso io l'ho fatto per Clementine veramente non sto scherzando io però fossi stato lì quello che sicuramente avrei fatto io le provviste non le avrei mai prese tutte perché prenderle tutte è veramente una merdata te le prendi ma lasci un po' di roba io avrei preso minchia c'era 300 scatoloni io ne avrei presi tre o quattro per noi e il resto lo lasci lì se tornano quelli della macchina si prendono quello che gli è rimasto se quelli della macchina sono morti come è molto probabile visto che quella situazione non era normale per niente se quelli della macchina sono crepati e passerà qualcun altro che ne ha bisogno se le prenderà abbiamo fatto del bene a lui nel senso win win capite cioè lasciare lì qualcosa è solo che positivo e ti metti un po' a posto anche la coscienza no portare via tutto proprio razzia totale in quella maniera secondo me è stato un po' tanto esagerato è stato un po' tanto esagerato io non l'avrei fatto questo ne sono sicuro avrei preso il cibo per Clementine perché lei deve mangiare questo è poco ma sicuro ne sono convinto che l'avrei fatto nella realtà ma non avrei preso tutto assolutamente non avrei preso tutto come al solito l'equilibrio la cosa giusta secondo me sta sempre nel mezzo ora detto questo mi dispiace per questo episodio molto chiacchierone spero che non vi siate annoiati spero che vi siate comunque divertiti e che magari avete anche riflettuto e imparato qualcosa lo spero col cuore ma soprattutto spero che queste discussioni questi ragionamenti queste riflessioni vi abbiano incuriosito vi abbiano dato lo spunto poi per essere proprio voi ad approfondire questo genere di cose voi in prima persona a prendere andare a imparare qualcosa non da me che sono il primo coglione che è passato di qua ci sono mille modi ci sono tanti libri ci sono tante cose bellissime da poter leggere di questi argomenti spero di avervi stuzzicato un po' la curiosità e spero che vi porterà tante belle cose alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.